Allora oggi vi mostrerò tutti i miei astucci o agende, quaderni, tutte queste cose eccetera Ok, iniziamo Allora, con questo astuccio vedete che c'è un cucciolo con la palla Andiamo ad aprire, qua ci scrive il nome, non italiano Poi come vedete qua, riga, squadra, colori Queste qua non li legamo e ci mettiamo altra roba E qua penarelli e due matite Dopo ho questo astuccio mio di scuola Vedete, è sempre identico a quello Questo Vedete qua mette penne e matite Qua altra roba Cioè come vedete qua anche Qua anche altra roba Se no, se no apriamo qua Vedete qua no? Ma qua è chiuso Ma guardate prima la zip Cioè Questa astuccia a me piace tanto Ho anche il diario di questo Ho anche il diario Quindi è da tanto tempo Ma io l'aggiusto Ma questo nuovo di mia sorella ogni giorno compra un astuccio nuovo Vedete questo nuovo, è nuovo di zecca Così Così E qua Non ci sono penarelli perché lei li leva e li mette al astuccio nuovo Qua sempre identico a quello Mezzo vuoto Vedete Vedete Questa è questo Molto bello Molto molto bello Vedete Ora incominciamo con altra roba Questa è una penna Sembra che sia rotta Ma invece si rimette Si mette al collo Di Frozen Si mette al collo Senza che la tenete sempre male Sempre di Frozen c'è questo quadernino per scrivere gli appunti Vedete Dopo ne abbiamo un altro Che questo è il mio Ora lo devo aprire Prima abbiamo questa piccola agenda Che l'ho comprata oggi Vedete come è dentro Molto bella perché è una cosa che credo che non conoscete Vedete com'è Mia sorella fa una faccia brutta perché non le conosce le cose Le sorride solo per le sue cose Dopo quest'astuccio Aspettate un attimo Qui c'è scritto Vedete Tutto blu C'è scritto vernice fresca Vedete E io qua ci attacco le figurine Tanto quando le levo Sono laziale Questo è sempre il mio diario della Lazio Vi faccio vedere il mio disegno Lo scudetto Vedete Della Lazio Dopo vi mostrerò i quaderni Vedete Questo è molto bello È il mio È il preferito di mia sorella Dove abbiamo questo Questo credo che anche gli piace Perché quando toccate Cioè sembra vero Ci sono i brillantini È ruvido Vedete Anche qua Dentro è così Qua Ho detto Scusate Poi questo che al minimo Noi lo usiamo Come disegni Pappagallo Aspetta Vediamo dentro Vabbè Questo invece Tutti i orsacchiotti Dentro così Questo è il mio disegno di scuola Che non lo so se voi lo fate È tutto a puntini Sembra colorato Ma l'ho fatto con tutti i puntini Tutti i vicini E sembra colorato Quindi È questo La sorella Ha poche pagine Perché gli strappi Ma è molto bello Vedete Sempre questo Lo usiamo come disegni E questo Ha 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 Tutti come disegni Questo Scarabocchiato E mia sorella Molto sciocca Bello perché mi piace Una tigre Una tigre Poi questo Non ha niente Ci facevo disegni Io Dopo il video Faccio altri disegni Mi va Mi va Mi va Vedete Sempre così Dopo sempre questo Che vi ho fatto ancora vedere C'erano due Vi chiederete Perché ho da femmina O mia sorella Questa è di Violetta Mentre è così Questa è di scuola Però Oggi questo video Finisce qui Questa è di scuola